Quando il destino ci vuol mettere le copie, quella è Mollezza d'Ambezzo, è la montagna più alta d'Europa, sono 4200 metri di Mollezza, lì dove vanno a scendere tutte le volatari, ci sono le impianti sciistiche, impianti tutte le solite, tutte le scienze. Io venivo qua in città scolastica da bambino, tutti ci siamo con le Mollezze. Io andavo proprio a fare le vacanze, mandavo le fotografie. Ma tutti con la maschera andocasta, è una cosa? E poi mi dicono che l'Italia non è più quel paese del mondo, ma facciamo il subito.